buonasera a tutti sono alessandro giacomel sono venuto alla maker fair sardinia per presentare una delle mie opere che è un robot pittore io ho presentato un robot che come dico spesso da grande vorrebbe fare il pittore qua già ci scontriamo subito con la prima difficoltà perché se io vado nel dizionario garzanti o vado su wikipedia l'arte viene definita come un'attività umana a cui si riconosce un valore estetico e che poi si può espletare nei media più diversi quindi la pittura nella musica nella poesia e quindi questo fatto che sia un'attività umana già pone un primo problema perché un robot che vuole fare un pittore che vuol fare pittore secondo questa definizione non può essere un artista questa passione che io per la pittura si è espletata da molti anni inizialmente avrei voluto essere un pittore io ma purtroppo non ne ho le qualità nelle capacità di conseguenza ho cercato nei modi che mi sono consentiti di poter coltivare questa passione ecco che ho deciso di creare una macchina visto che io le macchine le so dipingere non sono capace ma le macchine le so fare ho deciso di fare una macchina che potesse dipingere al posto mio questa macchina è l'ultimo step di un percorso che ho fatto durante gli anni partendo prima dal disegno quindi realizzando macchine robot che potessero disegnare che sono concettualmente più semplici di un robot che dipinge per arrivare poi appunto alla macchina che ho presentato purtroppo non ho potuto portarla qua con voi perché è di dimensioni ingombranti ed è al piano terra qua del museo archeologico di Olbia dove c'è la Maker Faire è comunque possibile visitarla ma ho potuto portare alcune delle opere che sono state fatte con questa macchina e vorrei ora farvene vedere una per farvi capire di cosa stiamo parlando questa è non so se riuscite a vederla è un'opera di questo robot questo robot si chiama russolino russolino perché io sono veneto e a portogruaro che la mia città è nato luigi russolo che un artista è un pittore futurista quindi un pittore che è proiettato verso il futuro e verso le nuove tecnologie di conseguenza mi sembrava giusto rendere omaggio alla mia città a cui comunque sono legato dando il nome a questa macchina, il nome di questo pittore e come vedete questo è un quadro astratto questa è la prima tipologia di quadri che questa macchina è in grado di fare è un quadro fatto di cerchi, di linee che si intersecano, di linee curve queste sono tutte formule e funzioni matematiche di conseguenza qua si parte da un foglio bianco io penso ad una serie di formule che poi programmo in un computer sono formule che noi studiamo alle superiori quindi cerchi, sono seni, coseni sono curve che si usano in computer graphic come le curve di Bézier cose non troppo complicate che io cerco di fare in modo che siano armoniche e siano carine da vedere dopodiché queste formule matematiche vengono tradotte in istruzioni che il robot è in grado di processare e quindi di mettere sulla carta questi sono degli acquerelli quindi i colori sono colori acquerelli come quelli che abbiamo usato tutti più o meno alle elementari e alle medie quindi sono colori abbastanza semplici da trattare perché degli acquerelli? Degli acquerelli perché l'acquerello contiene una serie di elementi di casualità cosa intendo? Nel momento in cui io faccio un dipinto ad acquerello i colori si compenetrano l'uno con l'altro in maniera casuale e di conseguenza ogni quadro risulta diverso dall'altro ma non solo il robot è in grado e me ne faccio vedere magari mentre parlo è in grado di stabilire una serie di parametri una serie di parametri in che termini? ci sono all'interno delle formule matematiche che sono state generate una serie di elementi di casualità che di conseguenza variano sono dei random per intenderci sono dei valori randomici che variano nel momento in cui io vado ad eseguire il software ecco che ogni qual volta io lo eseguo il dipinto è diverso quindi non solo non è predicibile a priori per me in quanto io non so precisamente cosa uscirà in più questo legato al fatto che i diversi colori si mescolano sulla carta per effetto dell'acquerello ecco che ogni qual volta io vado ad eseguire ottengo un'opera unica se volete quindi in questo si differenzia nettamente da quella che è una stampante o un plotter una stampante o un plotter tratta dei pixel li trasferisce sulla carta in maniera sempre identica questo invece usa un pennello quindi usa un vero e proprio pennello usa dei colori che sono su una tavolozza e li mescola e ottene un quadro come quello che voi state vedendo i soggetti che è possibile fare sono molto vari nel senso che combinando poi queste semplici formule in realtà ho scoperto che si possono ottenere una varietà molto grande di diverse tipologie di dipinti e purtroppo richiede parecchio tempo un'elaborazione abbastanza lunga io per fare un algoritmo come quello che voi vedete qui in questo quadro impiego magari una settimana perché non tutte le forme sono armoniche e si adattano ad essere poi trasferite in un dipinto e poi dal software e dal dipinto sulla carta e di conseguenza dietro c'è un notevole lavoro in tal senso io sostengo che il dipinto è una sorta di collaborazione una collaborazione tra me che sono quello che ha pensato l'algoritmo e il robot che comunque utilizzando tutti gli elementi di casualità che ci sono ci mette del suo se vogliamo quindi decide nel momento in cui tra virgolette decide nel momento in cui esegue il dipinto di assegnare una serie di valori e quindi cambiare il dipinto nella maniera che lui in quel momento ha deciso quindi un po' lo decido io un po' lo decido lui quindi è una sorta di collaborazione questo è un tipo di dipinto questo astratto perché poi vedremo quelli figurativi che a me piace molto perché piace molto perché parte da un foglio bianco non parte da un'immagine come un dipinto figurativo o da un disegno questo parte veramente dal foglio bianco si vanno a scrivere queste formule matematiche e queste formule matematiche vengono trasferite sulla carta ecco che mi piace pensare che si realizzi quella che viene definita la bellezza della matematica che alla fine si parla tanto di questa bellezza della matematica ma nessuno la vede e invece qua si può secondo me si può vedere e si può apprezzare e quindi questa cosa mi è molto piaciuta nel momento in cui io sono riuscito a fare questo tipo di dipinti ero soddisfatto il fatto che io non fossi in grado di fare il pittore era stato in qualche modo esaudito dal fatto che io fossi in grado di fare una macchina che invece era in grado di fare il pittore ora dire se questo è arte oppure no io lo lascio giudicare a chi la guarda insomma secondo la definizione del vocabolario non è arte quindi questo è un po' un ostacolo però insomma lascio giudicare a chi sta guardando le opere la seconda tipologia di opere che questo robot è in grado di fare sono delle opere figurative adesso ve ne mostro una così potete comprendere di cosa sto parlando questa è un'opera figurativa uno la guarda e dice beh insomma non sembra proprio una fotografia ma perché non sembra una fotografia perché in realtà questa è una fotografia si è partiti da una fotografia che però è stata trattata da un'intelligenza artificiale quindi c'è sempre un elemento che se volete non è umano che interviene nel processo di definizione dell'opera e quindi l'intelligenza artificiale io ne utilizzo in particolare due questa è una intelligenza artificiale di Google in cui è possibile assegnare dire all'intelligenza artificiale trattami una certa immagine con un certo stile e lo stile è possibile definirlo a priori cioè nel senso che io posso andare a dire all'intelligenza artificiale qual è lo stile che voglio adottare conseguenze io potrei per esempio fare questa stessa faccia con lo stile di Van Gogh con lo stile di Picasso l'intelligenza artificiale non fa altro che prendere l'immagine applica degli algoritmi suoi propri e tira fuori un'immagine nuova che prima non esisteva con lo stile di Van Gogh o di Picasso oppure lo può fare con due con uno stile che definisco io quindi io qua ho preso un'immagine fatta di pochi colori, pochi tratti gli ho dato in pasto questa fotografia ed ecco che l'intelligenza artificiale ha restituito questa immagine che prima non esisteva io questa immagine l'ho poi fornita al robottino e al robottino ha creato il dipinto di conseguenza se volete l'intervento umano c'è ma è ancora minore è ancora minore rispetto a prima dove invece gli algoritmi andavo a definirli io c'è una nuova intelligenza artificiale si chiama Dalli2 di OpenAI che è un'altra azienda che si occupa di intelligenza artificiale americana dove invece è possibile scrivere quello che si vuole ottenere ad esempio si può scrivere farmi un'immagine di un robot con dei fiori in testa con lo stile di un bambino e questa intelligenza artificiale crea un'immagine di un robot con i fiori in testa con lo stile di un bambino ed è un'immagine che assolutamente non esiste cioè è un qualcosa che l'intelligenza artificiale ha creato e quindi qua l'umano l'umanità la persona è completamente disintermediata se volete nel senso che l'intelligenza artificiale crea da sola l'immagine creando un qualcosa che assolutamente non c'era prima il robot la dipinge e quindi l'uomo fa molto poco se volete è semplicemente ha detto ha commissionato l'opera vorrei un'opera dove c'è un robot con i fiori in testa e questo secondo me è molto interessante perché se voi andate a vedere questi quadri se vedete questi quadri che sono stati fatti da questo russolino utilizzando l'algoritmo di questa intelligenza artificiale sono comunque a mio avviso a me piacciono sono dei bei quadri però di umano non c'è nulla lì dentro c'è completamente tutto fatto a macchina e questo insomma è un settore che a me affascina molto ecco questo è quindi un esempio di quadro figurativo questo è un altro esempio sempre trattato con intelligenza artificiale questo è un gatto che spero averlo messo dritto è un gatto che alla fine è quasi riconoscibile è un gatto fatto in una maniera che sicuramente non è una fotografia è un qualcosa di assolutamente nuovo e questo è quello che riesce a fare questo robottino adesso magari collegatoci qualcuno di più tecnico spiego brevemente tecnicamente come questo avviene questo avviene tramite una macchina che è sostanzialmente una macchina a controllo numerico nel senso che è una macchina CNC come viene chiamata è una macchina che è in grado di accettare istruzioni in un linguaggio che si chiama G-Code che è il linguaggio standard delle macchine utensili e invece di fare un movimento finalizzato a fresare un pezzo fa un movimento finalizzato a dipingere qua la cosa interessante è scomporre l'algoritmo per fare in modo che il robot sia in grado di prendere il colore fare un tratto poi accorgersi che il colore è finito riandare a prendere il colore e fare il tratto successivo piuttosto che il robot si deve accorgere che quando cambia colore deve pulire il pennello e che quindi lo deve andare c'è l'acqua io ho messo una ciotolina con l'acqua e quindi il robot va nell'acqua e pulisce il pennello in modo tale da essere pronto per un nuovo colore da un punto di vista del software tutto è stato fatto da me quindi ho usato delle routine di elaborazione grafica che sono comunque disponibili sul mercato sono open source e ho realizzato anche tutta la parte di elettronica quindi tutta la scheda elettronica e l'ho realizzata completamente io perché penso di essere un maker un maker nella mia visione fa tutto fa la meccanica fa l'elettronica fa l'informatica io ho cercato di unire tutte e tre queste discipline in quella che poi è la robotica perché la robotica se volete è l'unione di queste tre discipline e quindi questo è il risultato adesso ci sono delle linee di evoluzione uno dei problemi che ho attualmente è che non riesco a fare dei quadri molto grandi e quindi sto realizzando un robot che ha le ruote e quindi con quel punto là mi sono diciamo svincolato dal fatto di avere una dimensione nell'altra dimensione posso usare dei profilati più o meno lunghi per cui sono pronto per fare un quadro da un metro per un metro e questo mi fa molto piacere e poi l'altra cosa che vorrei cominciare a fare è passare a dei colori acrilici quindi lasciare i colori acquerello per i colori acrilici perché mi permettono di fare una stesura a n strati cosa che invece l'acquerello non permette assolutamente anzi l'acquerello in questo senso è tremendo perché nel momento in cui è sbagliato è finito butti il quadro e lo rifai quindi non non ammette non ammette errore con questo io spero di aver spiegato più o meno come può funzionare come può esistere un robot che dipinge e vi invito a venire alla maker fair per vedere i quadri che sono esposti e giudicare voi stessi se un robot può essere un artista grazie a tutti